Amici di tutto Venezia Sport e dei fuoricampo, buonasera e ben ritrovati con un nuovo video. Qui ha sottoparlato il vostro Davide Marchiol per fare il punto della situazione in casa Venezia. A luce della partita giocata contro il Napoli, conclusosi pochi minuti fa con la vittoria per 2-0 dei Partenopei. Prima di tutto ovviamente vi invito a continuare a supportarci iscrivendovi al canale e a mettere un mi piace se vi piacciono i nostri video. Con i like ci aiutate a fargiare di più i nostri contenuti ed è sostanzialmente il modo che chi ci segue ha per supportarci sostanzialmente in modo gratuito e senza spendere nulla di nulla. Detto questo, mentre intanto spengo il sistema all'autofocus come sempre. Allora, è una partita che mi lascia un po' così, nel senso che è ovvio che pretendere di fare punti contro il Napoli è difficile perché il Napoli è una delle squadre più forti del campionato ed è una delle principali concorrenti allo scudetto. Insomma, l'Inter è lì in cima alla classifica e dietro subito ci sono Milan, Napoli, Juve e le altre, insomma. Quindi, pretendere di fare punti era molto complesso e, insomma, si è direi visto abbastanza che c'era un gap tecnico importante. Questo è assolutamente in dubbio. Quello che mi lascia un po' perplesso continua ad essere la fase offensiva, nel senso che... No, la fase offensiva non è corretto. Mi sembra di vedere una squadra che non ha il coraggio giusto in questo momento. Che non ha il coraggio giusto. E' chiaro che contro una Big diventa tutto più complicato perché con un colpo da campione la Big può svoltarti la partita e tu difficilmente invece riesci a farlo. Però le altre, i punti li stanno facendo con le grandi. Cioè, questo non è una cosa che si può, come dire, nascondere o sottovalutare. Il Cagliari va a Bergamo e batte l'Atalanta. Un'Atalanta sicuramente non al top, però nel Cagliari ne ha approfittato ha fatto tre punti. Per dire, lo Spezia, probabilmente, gli ultimi punti li deve fare, ma ha costruito la sua salvezza battendo in fila delle grandi. Milano e Napoli su tutte. Come ha sempre detto anche Zanetti, oltre agli scontri diretti servono punti da partite insperate per costruire la tua salvezza. E per ora, con i punti sperati, siamo purtroppo fermi a quel successo o contro la Roma o contro il Bologna, secondo me come vogliate considerare il Bologna. Quindi è chiaro che il momento è complicato. Il momento è complicato, è molto difficile ed è tosta perché ha affrontato tante grandi squadre in fila dove la sconfitta ci sta. Ma è chiaro che con questo filotto qua sei a dieci partite senza un successo. E inevitabilmente sulla testa sia di chi segue che di chi gioca in campo non può non pesare la cosa. Per vedere i flutti del mercato di gennaio servirà ancora tempo. Per vedere un certo tipo di coraggio da parte di alcuni elementi che dovrebbero spostare qualcosa in più, secondo me non c'è più tempo. Cioè adesso bisogna iniziare a smuoversi. Domenica prossima c'è il Torino, parletta decisamente più alla portata. E già lì dovrai incidere, dovrai fare qualcosa per incidere, anche se sei in trasferta in un stadio complicatissimo. Per dire, partendo dalla difesa... E buoi molto bene, intraprendente, ha difeso con ordine, si è sganciato spesso, ha attaccato e poi va a prendersi quel rosso lì. Sull'altra fascia, Haps, lontano parente di quello visto contro la Fiorentina. Non vi parlo di peggiore o migliore in campo, sto proprio valutando pezzo per pezzo cosa si potrebbe fare di più, in generale. Haps è un lontano parente rispetto a quello visto contro la Fiorentina. Difende anche con ordine, però... Boh, cioè, mi sembra sempre gli manchi qualcosa sotto l'aspetto della cattiveria. Parla poco con i compagni, quando scende sulla fascia non crossa... E sembra sempre in campo per fare il suo compitino, ma come tanti altri, eh. A cui arriverò... Non lo so... Mi inquieta un po', ecco. Anche perché è uno dei più esperti e uno dei migliori, tecnicamente, sulla carta. E dei più esperti mi aspetto più carica agonistica. Centralmente ceccaroni bene, Caldara ancora una volta, si perde Usimen. Un giocatore gli sfida alle spalle e il testa se lo perde. Non so se ci potesse arrivare di testa. Probabilmente l'errore è in collaborazione con Ebuay, che a sua volta non ha corcia. Però siamo sempre là. Se punti tanto sul fare gare dalla grande aggressività difensiva con contropiede, o sei perfetto, o al primo errore vieni punito. Il Napoli è stato un Napoli un po' mediocre in fase offensiva. Perché Lezzerini, non l'ho citato perché non fa grandi parate. Non deve fare grandi cose particolarmente pregevoli. E però, al primo errore vero, il Napoli prende e ti punisce. Perché Usimen approfitta appunto di diversi errori. Perché anche sulla catena di sinistra, lì è Nani che non ha corcia. Però, Aps fa il movimento. Quisans fa altrettanto un movimento. E Nani sembra quasi sorpreso da ritrovarsi Politano davanti per il cross. E lì proprio non c'è stata comunicazione tra i tre. Di solito si fanno dei gesti per dire, io scalo, io vado così, vai tu là. E invece sembra proprio di vedere una squadra che si applica tanto, ma manca il coraggio giusto e la comunicazione tra i compagni per riuscire a incidere in modo un po' diverso. Probabilmente è tutto aggiustabile e tutto si può aggiustare già con lo scontro diretto con la Salernitana, secondo la decisione del giudice sportivo, ma è tutto aggiustabile anche in base ai risultati poi dei nostri, dei prossimi scontri diretti con le altre squadre che lottano per salvarsi. Però si nota come le altre contro le big in uno stato mediocre cerchino comunque di spostare qualcosa, mentre noi facciamo una fatica bestiale anche in mezzo al campo. Qui Zans molto bene per 40 minuti, poi non si capisce bene cosa gli succede e inizia a ingolfarsi. Inizia a non riuscire più a seguire gli avversari che attaccano la tre quarti, inizia a essere più pacco nei passaggi. Non lo so se sia giustificato da uno scarso minutaggio ancora, visto che nel giro d'andata si è allenato e basta, però è durato sostanzialmente 40 minuti. Non basta, non basta. Anpadu bene, Cernigoi ha fatto il suo al netto di un tasso tecnico non particolarmente elevato, Johnson un fantasma. Johnson dopo l'infortunio non è più rientrato sostanzialmente, lo abbiamo tra virgolette perso nella parita con la Fiorentina. E ripeto, questo non è un, oh mio Dio, un disastro. Però è chiaro che ci sono probabilmente alcune individualità che non stanno dando quello che dovrebbero dare e in ottica scontri diretti questo devi valutarlo e devi tenerne conto perché negli scontri diretti dovrai essere perfetto comunque. Non è che Cagliari, Spezia e Samp ti riteneranno qualcosa, dovrai essere perfetto e dovranno esserci in campo giocatori con gli attributi perché non è detto che in uno scontro diretto la partita ti vada come prevedi tu e che ti vada tutto bene, l'episodio negativo ti può capitare e dovrai avere la forza di reagire. Dicevo, Johnson è un fantasma, oggi proprio c'è qualche dribbling però andava a un terzo della velocità che ha di solito, mi sembrava veramente andare a rallentatore e dall'altro lato Nani non ha fatto granché di più. E' chiaro che per Nani vale il discorso che il fatto che è appena arrivato e ha pochi allenamenti nelle gambe, anche perché è arrivato con poi un focolaio di virus scoppiato e quindi gli allenamenti sono stati sicuramente molto particolari. Però talvolta sembrava un po' spaisato. Da un bel pallone a Occhereke, da un bel pallone a Occhereke da cui nasce anche una bella occasione da gol e poi un po' pochino, appunto, si viene sorpreso da Politano nel cross per Osimène. Non lo so, cioè io continuo a pensare che a gara in corso sia un'arma perfetta. Dal primo minuto, boh, oggi probabilmente Aram non stava benissimo e non era al meglio e quindi l'hai dovuto schierare. Non lo so, però vediamo. Probabilmente non era troppo la sua gara per le condizioni appunto fisiche di cui ho detto prima. Occhereke tenta di fare il suo, buone ripartenze, quando ha possibilità cerca di far valere la sua velocità. Zanetti prova a spostare qualcosa con i cambi, però anche lì è troppo poco da chi è subentrato. Nel senso Busio, sì, ok, copre bene il campo, ma anche lui fatica a darti qualcosa che sposti effettivamente gli equilibri che non siano già stati delineati. Dopo il gol, infatti, il Venezia non tira più in porta. Anche perché il Napoli fa valere la sua enorme qualità che è decisamente più alta rispetto al Venezia e tiene sostanzialmente sotto scacco i leoni con il palleggio. Però anche lì magari prova, non lo so, un tiro da fuori, cerca di forzare una giocata. Manca quel passaggio lì che ti permetta, magari anche con fortuna, non è detto che deve arrivare per bravura. L'episodio ti può arrivare anche con la fortuna, però devi andartene un po' a cercare la fortuna. E talvolta, tenendo, ribadisco, conto, che hai affrontato quasi sempre delle big, non mi è parso che questi giocatori cercassero la fortuna. Ovviamente tutto sta poi nel vedere adesso se andranno bene gli sconti diretti. Lì ti giochi ovviamente il campionato. Hai fatto qualche punto insperato, il giro è andata, perdendo però qualche punto di troppo negli sconti. Scusatemi, oggi è un delirio, negli sconti diretti. E adesso bisogna vedere, dovrai provare con le squadre di metaclassifica a strappare qualcosa e non dovrai fallire gli sconti diretti in attesa di avere tutti al meglio, perché oggi probabilmente non erano neanche tutti al meglio, non sa me per dire entra, ma è in condizioni ancora precarie. Così come Busio bisogna ancora recuperare il miglior Busio, eccetera. Non ci sarà Ebuay squalificato, quindi a destra dovrà inventarsi qualcosa Zanetti, probabilmente verrà dirottato Ampadu e giocherà qualcuno in mezzo. Io spero semplicemente che queste dieci partite in cui non sei riuscito a vincere insegnino ai giocatori che bene fare il compitino, cioè bene la prestazione, devi avere più coraggio, che è la parola chiave che più o meno indicano tutti, dal tecnico agli addetti ai lavori, lo stesso per dire Perinetti ha ripetuto la parola coraggio in un'intervista recente parlando del Venezia. Quindi ditemi la vostra un po' sotto nei commenti, come avete visto, cioè la gara lo so che era complicato vincerla, parlo proprio dei singoli, ditemi un po' come avete visto voi alcune le varie individualità, da chi vi aspettate qualcosa di più, chi secondo voi invece sta rendendo anche troppo e magari sono io troppo cattivo. Insomma, datemi un po' la vostra perché oggi darei una valutazione che non sia il semplice buona prestazione, Napoli più forte, andiamo a casa e vediamo dalla prossima di giocarsela, era un po' semplicistico. ho cercato di dare un quadro, uno spettro un po' più ampio della cosa perché non ci sono delle insufficienze gravi secondo me nel singolo giocatore. C'è un atteggiamento che in alcuni frangenti di regare anche con le big va un po' cambiato, ecco, perché ti serve un po' più di coraggio. Spero di essere stato chiaro perché oggi era un po' più difficile parlare di cose tecniche ma insomma è anche una gara che ha dato tanto su cui rimuginare e riflettere secondo me perché è affrontato anche un Napoli che secondo me non era neanche lontanamente vicino al top della condizione quindi dove qualcosa in più potevi anche tentarla. Detto questo, ricordatevi il like, ripeto fatemi sapere qui sotto nei commenti come l'avete vista voi. un saluto e ci vediamo con i prossimi contenuti o su www.veneziosport.it Ciao!